Nvidia chiude una delle migliori settimane di sempre, con una crescita di oltre l'8%. E in questo contesto viene da chiedersi, ma il settore tecnologico americano è in bolla? In questo video approfondiremo che cosa è successo a Nvidia, qual è la marginalità del settore tecnologico americano, quali sono le valutazioni dell'intero settore e cercheremo di capire se negli Stati Uniti c'è una bolla tecnologica come quella del 2000. E ormai è un annetto che il mercato azionario americano sia sostenuto principalmente da 7 titoli, i fantastici 7 o anche detti magnifici 7, insomma 7 titoli sostengono il mercato, 493 titoli faticano. Quindi non possiamo non approfondire la grande tensione che c'è sul settore tecnologico americano. E finalmente condividiamo un nuovo sponsor di questo canale che è il sottoscritto Piano Finanziare SCF, la società di consulenza finanziaria indipendente di cui sono cofondatore, che non solo finanzia la produzione di questi contenuti ma anche ti mette a disposizione le oltre 100 slide che condividerò in questo video in formato totalmente gratuito scaricabile alla fine del video. E nel caso non lo sapessi c'è un canale delicato di Piano Finanziare SCF, trovi il link in descrizione. E valla a seguire perché ci sono contenuti molto interessanti curati da tutto il team, da tutti i membri di Piano Finanziare. Bene, l'euforiometro. Il settore tecnologico è un livello di euforia molto elevato e lo vediamo da questo indicatore che è un concentrato di tre indicatori. Il Forward Price and Earning, quindi la stima del rapporto prezzo utili sugli utili futuri, il VIX ai minimi storici e il Bullish Sentiment. Cioè quanto entusiasmo hanno gli investitori? Bene, siamo a valori molto alti paragonabili a quelli del 2021. Il mercato è contraddistinto da una grande avidità, praticamente siamo ai massimi di sempre, quindi vuol dire che c'è entusiasmo, voglia di guadagnare, utili in crescita, insomma un grande contesto di investimento per ora. I gestori di capitali, anche detti asset manager, che si posizionano long, quindi c'è desiderio di prendersi il rischio finanziario, e dove si posizionano? Nel settore tecnologico, che è ritornato ad avere flussi in ingresso spintissimi, vuol dire tanti investitori che investono nel settore tecnologico, Nvidia con cui abbiamo aperto il video è uno dei più importanti titoli tecnologici, vedremo tra poco dei dettagli, e come vediamo i flussi sono importanti, 84 miliardi di dollari nel settore tecnologico dall'inizio dell'anno, praticamente il doppio di tutti quelli che sono entrati nel 2023, quattro volte quelli che sono entrati nel 2022, e quindi viene da chiedersi, alla luce di questi flussi, tutto questo interesse, ma c'è davvero un rischio bolla? Lo scopriremo tra poco. Sicuramente questo è un contesto in cui il focus è appunto sui titoli tecnologici, il comparto value del mercato non se lo fila nessuno, e infatti c'è un grande orientamento alla componente growth del mercato, componente che non solo ha straperformato largamente negli ultimi dieci anni abbondanti, ma straperformato nel 2021, è andata in crisi nel 2022, quando sono saliti i tassi, e adesso è ritornata a performare alla grande. E finalmente parliamo di NVIDIA, perché la settimana scorsa abbiamo fatto questo video di approfondimento, se te lo sei perso, link in descrizione, un giorno prima che venissero comunicate le trimestrali, che poi sono uscite, e infatti molti a dire, è NVIDIA per chi ha preso questo titolo un anno fa, ci piacciono i giochi di parole, fateli e noi li pubblicheremo sempre, perché le trimestrali sono andate benissimo, e oggi commentiamo appunto quello che in qualche modo potevamo solo ipotizzare la settimana scorsa, una crescita esponenziale del titolo, con degli aspetti che lo rendono veramente un unicorno potenzialmente, un titolo fuori dall'ordinario, ed è proprio perché è fuori dall'ordinario che dobbiamo stare molto attenti sul posizionamento che abbiamo. Non ho capito perché sconsigli di shortare NVIDIA, o qualunque titolo? Ecco perché ti sconsiglio di shortare NVIDIA, lo vedremo in questo video. NVIDIA non mi posizionerei mai long, cioè non rialzista, se non per sbaglio comprando ETF o fondi, ad andare short, cioè ribassista, ci ho già provato scottandoti. Bene, la ragione per cui ho sconsigliato di andare short, lo sconsiglio in generale a chiunque guardi contenuti su YouTube, perché è il modo migliore per vedere bruciati i tuoi risparmi, cioè decidere di shortare e speculare a ribasso un titolo guardando un video su YouTube, semplicemente perché non hai le competenze e la capacità di fare un'analisi sufficientemente profonda e la tenuta psicologica per reggere l'analisi che hai fatto, se la tua fonte di informazioni è YouTube. Ma la seconda ragione è perché NVIDIA è un titolo dannatamente difficile da analizzare, perché è dannatamente difficile stimare la crescita esponenziale che ha avuto un'industria, come quella dell'intelligenza artificiale, o un settore come quello tecnologico che adesso è fortemente trainato dall'intelligenza artificiale. Qualche mese fa avevi fatto un video in cui definivi NVIDIA un titolo ad altissimo rischio e avvertivi sul pericolo di una bolla speculativa e quotava la metà di oggi. Certo, perché il rischio c'era, ma il rischio cos'è? Il rischio deriva dalla poca probabilità di successo, perché era poco probabile una crescita come quella di NVIDIA. Cioè, a livello statistico, di crescite come quella che stiamo commentando adesso ad NVIDIA, non ce ne sono troppe. E ne parlavo la settimana scorsa con un cliente in un corso che abbiamo tenuto qui a Modena. Eh, è facile trovare NVIDIA commentando come selezionare titoli vincenti sia la soluzione per guadagnare sui mercati nel modo più facile e scontato possibile. No, non è facile, perché è un titolo come NVIDIA che ha una crescita esponenziale come quella che stiamo vedendo a livello di capitalizzazione, che raddoppia il proprio fatturato in un anno. Ma non è che passa da un milione a due milioni, che è ancora in una fase di startup. Passa da 30 miliardi di dollari di fatturato a 60 miliardi di dollari di fatturato in un anno. Non so quante volte sia successo negli ultimi cento anni che un'azienda così grande raddoppi il fatturato in un anno. Perché è giusto avvertire che qualcosa di poco probabile, poco probabilmente si realizzi. Questo non vuol dire che non possa realizzarsi. E così è stato. I risultati di NVIDIA sono oggettivamente stratosferici. A livello di fatturato anno, a livello di crescita del fatturato trimestre dopo trimestre, a livello di solidità finanziaria, NVIDIA ha un debito totale rapportato al suo patrimonio che è più basso di quello dell'S&P 500. E nonostante il rendimento dal punto di vista della crescita del prezzo sia del 130%, quello che è veramente incredibile è che l'espansione degli utili è del 250%. Quindi paradossalmente con la crescita straordinaria degli utili che ha avuto, tipica di un'azienda in start-up, non tipico di una multinazionale che fatturava già 30 miliardi di dollari, con questa crescita degli utili, se confrontata con la crescita delle valutazioni, oggi NVIDIA sembra essere più a sconto di quanto non lo fosse due anni fa. Perché paradossalmente il rapporto prezzo-utili si è ridotto. Questo ha fatto sì che la settimana scorsa il prezzo di NVIDIA sia cresciuto esponenzialmente, 8% in una settimana, la più grande crescita di capitalizzazione giornaliera, ha guadagnato 273 miliardi di dollari di valutazione in un giorno. Ma la ragione sta tutta qui, 230% di crescita degli utili in due anni. Il confronto con altri titoli tecnologici, un Amazon, un Meta, un Google, un Microsoft, è imbarazzante. NVIDIA ha avuto performance da start-up. E questo è associato proprio all'esplosione di questa nuova industria nell'industria del settore tecnologico. Quindi tutto ciò legato all'intelligenza artificiale. E ovviamente, commenteremo tra poco, le differenze imbarazzanti con l'intero S&P 500. Ma dopo l'approfondimento su NVIDIA ampliamo l'orizzonte all'intero settore tecnologico americano, i cui dati sono comunque molto validi, nonostante tra questi titoli ci sia per dire Tesla, che non è che abbia sveltato particolarmente nell'ultimo periodo. In blu vediamo la crescita dell'S&P 500 a livello di capitalizzazione in termini di trilioni di dollari. A partire dal 2013, in rosso la crescita dei magnifici 8. Quindi Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix, NVIDIA e Tesla. E in verde la crescita dell'S&P 500 senza i magnifici 8, che come vediamo è sì, comunque positiva, ma non entusiasmante per via proprio del contributo e della crescita esponenziale che hanno avuto questi 8 titoli. Sottopesare i magnifici 8 ha portato nell'ultimo periodo ad una sottoperformance, quindi un rendimento più basso, molto importante rispetto a quello dell'S&P 500. Per questa ragione il settore tecnologico, come vedevamo prima, continua a raccogliere capitali e ad avere una market share, quindi un peso sull'intero mercato azionario americano via via crescente. A tal punto che oggi questi 7 titoli, a volte li chiamano magnifici 7, magnifici 8, insomma parliamo dei primi 7-8 titoli per capitalizzazione del mercato azionario americano, hanno una capitalizzazione totale di 12,03 trilioni di dollari, quindi 1.000 miliardi di dollari, che è superiore all'intera capitalizzazione del mercato azionario cinese, giusto per dare un'idea, dell'intera capitalizzazione del mercato azionario giapponese, dell'intera area euro. Solo 7 titoli valgono di più di tutti i titoli scambiati nell'intero mercato azionario di questi paesi e questo è oggettivamente sconcertante in termini di rilevanza che hanno questi titoli nell'economia mondiale. Questi titoli rappresentano aziende che sono diventate delle superpotenze economiche ormai paragonabili se non superiori ad intere nazioni. Ma parlando di 7 titoli viene da chiedersi, sì ok ma non c'è un rischio concentrazione negli Stati Uniti? Non è che l'intero mercato si regge davvero solo su 7 titoli e questa è un'anomalia a cui magari possono essere associati dei rischi? Nì, parliamone. I primi 10 titoli per capitalizzazione dell'S&P 500 sono questi e hanno un peso totale del 33,9%. Quanto è secondo te il peso dei primi 10 titoli per capitalizzazione all'interno del mercato azionario italiano? Scrivimelo nei commenti. Bene, numeri alla mano, in Italia i primi 10 titoli per capitalizzazione, e questi sono gli ETF che sono stati analizzati, pesano per il 66% della capitalizzazione. Vuol dire i primi 10 titoli pesano per il 66% del totale del paniere in termini di capitalizzazione di mercato. In Francia 58, Germania 58. Quindi quello che è interessante notare è che l'eccessiva concentrazione che hanno gli Stati Uniti su questi 7-10 titoli paradossalmente è minore della concentrazione che si può notare in altre nazioni. E questo ridimensiona le preoccupazioni sul rischio di concentrazione, quantomeno perché ci sono altri mercati azionari che hanno un livello di concentrazione più elevato. Il webinar del 7 di febbraio a tema ETF è stato uno dei più seguiti di piano finanziario. Oltre 1500 persone hanno partecipato in diretta all'evento. Altre tante persone però ci hanno scritto che non sono riusciti a partecipare e quindi fino al 29 di febbraio giovedì abbiamo deciso di rendere disponibile la registrazione. Se te lo sei perso è un evento da non perdere per conoscere il mondo degli ETF e capire quali sono le opportunità che possiamo cogliere anche noi piccoli risparmiatori e piccoli investitori. Trovi la replica nel link qui sotto. Ora è finalmente giunta l'ora di parlare degli utili del settore tecnologico perché abbiamo capito che questi titoli hanno un grande peso sono quelli che stanno trascinando il mercato ma la vera domanda è ma a conti fatti sono aziende che fanno utili o no? C'è una ragione per cui trascinano l'intero mercato o è solo una bolla speculativa? Ottima domanda. Bene partiamo da l'S&P 500 che ha visto comunque nell'ultimo anno crescita degli utili del 16% all'anno quindi sì recessione qua là però la crescita degli utili c'è negli Stati Uniti c'è adesso vedremo come è distribuita ma la crescita degli utili c'è e finché c'è crescita degli utili c'è speranza non solo c'è anche sostenibilità dei prezzi di oggi no? E questo è l'intero SP 500 e queste sono le ultime trimestrali Q4 del 2023 l'ultimo trimestre dell'anno scorso ma quello che è interessante è la crescita degli utili e la marginalità dei magnifici 7 Alphabet crescita degli utili del 13,5% Microsoft del 20% anno su anno Meta del 25% anno su anno su questo incremento degli utili di Meta ci credevano in pochi per Meta si intende Facebook a tal punto che Meta ha fatto un meno 77% nel 2021 e un più 45% dal 2022 ad oggi e questa mega candela è proprio la crescita di prezzo dopo che sono state pubblicate le ultime trimestrali che hanno fatto sì che prima di Nvidia il record di maggiore crescita della capitalizzazione giornaliera fosse proprio di Meta con 196 miliardi di dollari di capitalizzazione aggiunti in un giorno bene ma passiamo ad Apple non è così entusiasmante ma comunque crescita degli utili dell'1.1% riassumendo quindi la crescita degli utili dei magnifici 7 vediamo come Nvidia ha svettato proprio una crescita stratosferica Amazon è andata molto bene Meta è andata altrettanto bene Google così così Microsoft in crescita Apple più o meno stabile Tesla in leggero calo ma quello che è veramente sconvolgente è la performance relativa il rendimento relativo i magnifici 7 nel 2023 hanno visto aumento del fatturato del 15% le altre 493 azioni dell'S&P 500 solo del 3 l'aumento medio dei margini è stato di 580 punti base quindi una marginalità che è cresciuta in modo importante a fronte di un calo della marginalità per tutti gli altri titoli dell'S&P 500 crescita degli utili del 58% in un anno in media per questi sette titoli contro un calo degli utili del 2% per tutti gli altri titoli i magnifici 7 o 8 non trascinano solo la crescita dell'S&P 500 dal punto di vista delle quotazioni ma anche dal punto di vista degli utili il 54% degli utili dell'ultimo trimestre del 2023 sono stati generati da questi sette titoli gli altri 494 titoli dell'S&P 500 hanno visto un calo degli utili e lo stesso fenomeno ce lo si aspetta anche nelle prossime trimestrali quindi quelle del primo trimestre del 2024 80% della crescita degli utili dovrebbe essere associata a questi sette titoli ma quello che è veramente sconvolgente dei magnifici 7 è la marginalità quindi quanto sono profittevoli queste aziende ed è rappresentata dalla linea in rosso la marginalità a fine 2023 è pari al 21 quasi 22 per cento è praticamente doppia la marginalità dell'intero S&P 500 questo è importante da capire perché è ovvio che stiamo parlando di titoli straprofittevoli cioè non straprofittevoli il doppio più profittevoli di tutti gli altri titoli all'interno del paniere ed è questo anche che renderà più o meno giustificabile i prezzi di questi titoli ma su questo arriveremo tra poco sarà che c'è momentum negli Stati Uniti ma io in America non ci metterei un euro piuttosto li metto in Cina che sono ai minimi aspetto che non ho fretta ma parliamone perché il problema è che al di là delle valutazioni c'è il fatto che questi otto titoli che tutto il settore growth americano non è growth e basta perché crescono le quotazioni ma la marginalità è incredibile e questi titoli come emerge da questo studio di Julius Barr sono cash generating machines sono macchine stampa soldi non sono aziende proprio per via della quantità di flusso di cassa anche detto free cash flow che viene prodotto e ora finalmente parliamo di quotazioni ottimo tutto ai nuovi massimi pertanto si deve vendere per chi ha investito corretto no perché il punto è proprio questo se gli utili crescono i nuovi massimi sono assolutamente sostenibili perché è giusto che qualcosa che produce più utili valga di più quindi cerchiamo di capire se ci troviamo di fronte ad una bolla speculativa come quella di internet del 2000 perché comunque la crescita dei fang si chiamavano fang prima che venissero poi chiamati i magnifici 7 questi 7 8 titoli a grande capitalizzazione del comparto growth americano i titoli tecnologici hanno già visto una crescita importante e adesso la seconda crescita possiamo chiamarla spinta dalle ai in questo grafico vediamo la crescita delle quotazioni in percentuali non siamo ancora dei valori spinti come quelli del 2000 ma ci stiamo avvicinando e quindi ovviamente viene da chiedersi ma l'S&P 500 il settore tecnologico con questa crescita esponenziale delle quotazioni è una bolla stratosferica è costoso ma non è in bolla o è prezzato correttamente per i fondamentali che ha possiamo continuare ad essere ottimisti o vedremo dove andrà a finire il nostro ostimismo appena gli stati uniti sganciano la prossima atomica cerchiamo di capirlo analizzando l'andamento delle quotazioni sicuramente è indiscutibile che l'S&P 500 sta crescendo praticamente trainato da questi 7 8 titoli che abbiamo capito che hanno un peso molto importante il 33 35 per cento dell'intera capitalizzazione abbiamo capito che non è un grosso problema che ci sono altri indici che sono ancora più concentrati però ci piacerebbe in un mondo ideale vedere una crescita più distribuita ok più aziende che vedano crescere i loro utili questo non sta succedendo che vedano crescere le loro quotazioni non sta particolarmente succedendo e lo vediamo da questo grafico e questo si chiama market breadth cioè l'ampiezza del mercato cioè quanti titoli partecipano alla crescita delle quotazioni di un intero paniere di un intero indice e purtroppo è molto estrema questa market breadth vuol dire che pochi titoli trascinano l'intero indice e questi magnifici 7 nell'ultimo anno e poco più quindi dall'inizio del 2023 hanno visto una crescita del 139 per cento questo è un confronto molto interessante che puoi scaricare gratuitamente nel link alla fine del video che confronta questa crescita con altre bolle speculative della storia come vediamo se ci dimentichiamo il discorso degli utili che abbiamo discusso precedentemente e quindi gli utili sono cresciuti in modo importante se guardiamo solo l'evoluzione dei prezzi non è una crescita paragonabile ad altre bolle speculative se prendiamo ad esempio la bolla tecnologica del 2000 la bolla ha visto una crescita delle quotazioni del 192 per cento e la velocità della crescita quindi quanto sono cresciute velocemente le quotazioni è stata molto più elevata paradossalmente questa è una crescita che ha più fondamentali di altre bolle speculative e questo fa dire che potenzialmente non è una bolla speculativa è sicuramente una crescita importante guidata da pochi titoli che però hanno dei fondamentali solidi perché gli utili ci sono e anche se guardiamo solo la crescita delle quotazioni le vere crescite speculative sono state altre paradossalmente la crescita dal 2020 al 2021 dei fang quindi facebook apple amazon netflix e google prima che si chiamassero magnifici 7 quella è stata una bolla speculativa perché gli utili non sono saliti in modo proporzionale ma adesso ci sono fondamentali invece che sono gli utili in crescita e anche se guardiamo il rapporto prezzo utili è sì alto perché 45 non è basso ma non è paragonabile al 60 ad esempio dei fang dal 2020 al 2021 è stata una bolla nel 2020 nel 21 più di quanto non lo sia oggi non è ancora un 53 un 124 un 65 sono valori alti ma non mostruosamente alti e comunque come abbiamo visto prima sono supportati da una marginalità che è praticamente doppia rispetto a quella dell'S&P 500 e quindi è ovvio che un'azienda che produce il doppio degli utili valga di più di un'azienda che produce meno utili che valga infinitamente di più di un'azienda che di utili non ne produce no e finalmente arriviamo all'ultimo tassello di questo puzzle le valutazioni il rapporto prezzo utili è altissimo di questi titoli oserei dire una follia in tanti si bruceranno chi sia più alto è indiscutibile e le ragioni le abbiamo viste precedentemente sono titoli che rendono di più ed è ovvio che una ferrari costa di più di un'utilitaria perché da cose diverse prestazioni status eccetera quindi sono valutazioni alte ma non stratosferiche paradossalmente sono le altre fette del mercato che hanno quotazioni molto più basse l'S&P 500 equal weighted quindi in cui tutti i titoli all'interno dell'S&P 500 hanno lo stesso peso e non sono pesati per capitalizzazione come invece è l'S&P 500 che ben conosciamo ha un rapporto prezzo utili di 15 circa i paesi emergenti 15 circa l'Europa 14 13 tutto l'S&P 500 è sì sopravvalutato ma non strongly overvalued è più alto delle medie storiche è se guardiamo le deviazioni standard sopravvalutato ma non sembra ci sia i presupposti per una bolla speculativa per quelle che sono le valutazioni di oggi facesse un altro più 50 per cento quest'anno non supportato da fondamentali in crescita ovviamente cambierebbe lo scenario e anche questi grafici che confrontano il rapporto prezzo utili con le medie storiche di varie classi di investimento come il mercato azionario americano mondiale eccetera per me trovano il tempo che trovano e io sono un grande amante della storia dei mercati finanziari ma che senso ha paragonare il rapporto prezzo utili dell'S&P 500 del 1980 in cui i settori che facevano parte dell'S&P 500 erano completamente diversi non c'erano quelle società generatrici di flussi di cassa come vediamo adesso esseri magnifici 8 con una marginalità di oltre il 20 per cento che senso ha confrontare il rapporto prezzo utili di un mercato in cui i costituenti di quel mercato valevano meno con quello di oggi in cui hai delle aziende semi monopolistiche per non dire monopolistiche e che di conseguenza hanno delle marginalità incredibili dei fatturati in crescita e sono in grado lo ripeto di raddoppiare il fatturato in un anno partendo da 30 miliardi di dollari questa è veramente una cosa straordinaria cioè io vorrei che venisse trovato un'altra azienda che da 30 miliardi è passata a 60 miliardi in un anno ovviamente sono molto entusiasta parlando di nvidia ma non sono entusiasta perché ci ho investito direttamente quindi sono felice dei miei guadagni rimango molto cauto e molto riflessivo quando guardo queste crescite perché per quanto si abbia guadagnato perché nvidia è dentro agli etf in cui investo ma allo stesso tempo penso che sia dannatamente difficile riuscire a conoscere un mercato così bene da riuscire ad individuare titoli che hanno un potenziale di crescita così elevato e così straordinario data l'attuale dimensione dell'azienda questa crescita fa sembrare la crescita di amazon e google qualcosa di ridicolo quindi i confronti con le medie storiche a mio parere vanno guardate sì ma a livello storico titoli con questi fondamentali non esistevano sicuramente è indiscutibile che i magnifici 7 cominciano ad avere delle capitalizzazioni impressionanti se paragonate ad altre fette del mercato azionario oggi quotano quattro volte la capitalizzazione dell'intero russell 2000 che è l'agglomerato di titoli a piccola capitalizzazione del mercato azionario americano ed è praticamente il massimo degli ultimi 13 14 anni in altre parole nessuno si vuole andare a prendere i titoli a piccola capitalizzazione sono considerati estremamente rischiosi non hanno indiscutibilmente la stessa marginalità che hanno i magnifici 7 questo fa sì che gli investitori non li preferiscano questi titoli e le valutazioni sono più basse tra l'altro ne abbiamo già parlato in questo video se te lo sei perso link in descrizione se prendiamo un indicatore chiamato historical that score che è un indicatore di valutazioni che consolida più indicatori di valutazioni quindi il rapporto prezzo valore di libro rapporto prezzo dividendi il k prescio il rapporto enterprise value e bidda insomma sono tutti indicatori di valutazione quindi più alto è questo indicatore più il titolo a sconto l'intero settore tecnologico americano non ha comunque valutazioni paragonabili a quelle del 2000 perché perché ci sono gli utili questa è la differenza la bolla speculativa del 2000 era una bolla di valutazioni ma di aziende che avevano grandi prospettive ma non ancora i fondamentali e quello che è interessante notare sempre dei titoli tecnologici è la loro solidità finanziaria l'abbiamo visto di nvidia ma questo è altrettanto interessante notare come sono aumentati i tassi di interesse a partire dal 2022 in poi quindi la crescita del rendimento di un titolo decennale ad esempio negli stati uniti è stata importante si è passati dallo 0,5 per cento al 4 per cento ma il costo di indebitamento dei titoli all'interno dell'S&P 500 e in particolare dei magnifici 7 non è aumentato in modo paragonabile cosa significa significa che questi colossi oltre ad avere grandi marginalità e posizioni pressoché dominanti sul mercato barra monopolistiche hanno anche una grandissima capacità di gestire le loro finanze di finanziarsi nel lungo periodo di accedere a capitale a costi bassi e la marginalità deriva anche dal fatto che pagano poco il denaro che prendono in prestito questa è una delle ragioni per cui hanno straperformato meglio rispetto al Russell 2000 in un contesto di aumento dei tassi di interesse perché invece le aziende a piccola capitalizzazione fanno più fatica a finanziarsi e di conseguenza pagano tassi di interesse più alti sul loro debito e di conseguenza mangiano marginalità tutto bello fino a qui viene da dire magnifici 7 sono titoli stratosferici ma qualche preoccupazione c'è ok l'obiettivo di questi contenuti sempre aiutarti a contestualizzare le notizie a capire che ci sono comunque 50 sfumature di grigio e non è vero che il mercato o è in bolla o non lo è mi trovo d'accordo con chi dice che l'S&P 500 e i titoli tecnologici sono costosi ma non sono in bolla ma ciò nonostante voglio condividere qualche preoccupazione relativamente a queste valutazioni che potrebbero comunque spingere non oggi ma magari domani i mercati a correggere il prezzo di questi titoli e no non mi riferisco al fatto che nel 2030 i mercati finanziari che ho tanto studiato non esisteranno più e come nel 1928 molti si lanceranno dai grattacieli mi riferisco al fatto che troppe poche persone seguono i nostri contenuti e sono iscritte al canale quindi se ti interessano questi contenuti e ho ancora un paio di slide molto gustose faccelo capire clicca mi piace iscriviti al canale così da stimolare me e il team che produce le slide a continuare a produrre questi contenuti qui su youtube qualche preoccupazione i magnifici 8 7 8 sono titoli fenomenali come abbiamo visto e continuano a macinare utili però continua a crearsi un divario importante tra l'azionario americano e l'azionario del resto del mondo ed è un nuovo massimo dopo nuovo massimo quindi l'america tira il resto del mondo fa fatica a reggere lo stesso tasso di crescita delle quotazioni questo squilibrio della crescita lo vediamo a livello geografico emergenti che non sono mai stati così tanto a sconto rispetto agli stati uniti lo vediamo all'interno dello stesso mercato azionario americano in cui il segmento growth non è mai stato così tanto a premio rispetto al segmento value del mercato quindi in altre parole il comparto value del mercato in questo momento è molto trascurato dagli investitori che aveva recuperato solo nel 2022 quando c'è stato l'aumento dei tassi che ben conosciamo e adesso siamo invece tornati ad un grande predominio del comparto growth del mercato ma perché queste dovrebbero essere preoccupazioni beh perché solitamente a livello storico quando c'è stato un nuovo ciclo economico che è partito a guidare la crescita dei mercati azionari è sempre stato il comparto small cap quindi i titoli a piccola capitalizzazione che sono quelli che invece non stanno crescendo in questa fase di mercato che invece capiamo essere trascinata dai titoli tecnologici se prendiamo ad esempio dal 2016 al 2020 la crescita è stata trainata da russell 2000 invece in questa fase del ciclo economico ci verrebbe da dire che in fase conclusiva se guardiamo il movimento dei tassi fanno fatica a crescere i titoli a piccola capitalizzazione e questa divergenza tra titoli grande capitalizzazione titoli a piccola capitalizzazione consapevoli che di solito quando riparta il ciclo economico sono i piccoli a guidare la crescita è fonte di preoccupazione un'altra fonte di preoccupazione deriva dalle valutazioni relative cioè dal dividend yield dell'S&P 500 meno il tasso di interesse a 10 anni di un treasury questo è anche detto equity premium cioè in altre parole se questo differenziale è positivo vuol dire che i titoli azionari sono relativamente a sconto rispetto ai tassi di interesse di un titolo obbligazionario quindi in altre parole c'è un premio a rischio il rischio di investire in azioni che viene pagato dal mercato perché c'è un differenziale elevato non sempre questo differenziale è positivo ci sono momenti in cui il differenziale è negativo quindi come dire che le valutazioni sono alte a tal punto che esiste un'alternativa che è l'investimento in obbligazioni in titoli di stato che potrebbe rendere difficilmente giustificabile queste valutazioni molto elevate e questo principio che si chiama equity risk premium cioè il premio a rischio dell'investire in azioni è abbastanza preoccupante perché come vediamo da questo grafico siamo a un valore di equity risk premium tra i più bassi degli ultimi 25 anni e pericolosamente paragonabili a quello che è successo nel 2000 però nel 2000 non c'erano gli utili quindi questo fa dire sì le valutazioni sono alte ma qui ci sono gli utili quindi attenzione a guardare solo le valutazioni perché potremmo prendere un abbaglio e in più il dividend yield è il rendimento da dividendi e questi titoli tecnologici tipicamente danno pochi dividendi perché reinvestono tutto quindi è un indicatore che si può capire che c'è qualche rischio associato a queste valutazioni allo stesso tempo deve essere contestualizzato l'ultima riflessione che voglio condividere è associata al che i presciò anche detto rapporto prezzo utili su media degli utili di 10 anni che i presciò inventato dal premio nobel robert schiller siamo ai valori più alti di sempre praticamente a meno della bolla del 2000 degli ultimi 140 anni di storia 150 anni di storia questo potrebbe essere ad una prima occhiata una fonte di preoccupazione se non fosse che come dicevo prima nelle medie storiche non c'è la presenza all'interno dei panieri di azioni con lo stesso vantaggio competitivo che hanno gli otto titoli tecnologici che abbiamo commentato in questo video ma è meno una preoccupazione se guardiamo il fatto che comunque il key pressure non è un indicatore per fare market timing dalla prima volta che il key pressure che ha superato il valore di 30 ed è successo nel giugno del 2017 l'S&P 500 è cresciuto di oltre il 100 per cento nonostante ci siano stati due bear market quali quello del 2020 e del 2022 e un altro alla fine del 2018 l'ultimo trimestre del 2018 se te lo ricordi è stato molto difficile per noi investitori quindi attenzione perché le valutazioni non sono un ottimo strumento per fare market timing per fare speculazione di ingresso o di uscita dai mercati quello che conta veramente è la crescita degli utili e per ora per i magnifici 7 c'è abbondantemente